Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Jenny e Tony, una coppia di Temptation Island 2024, si trovano al centro dell'attenzione per una serie di motivi. Lei ha scoperto che lui la tradisce, mentre lui, un DJ di 41 anni, sembra non dare a lei le attenzioni che merita. Ma non è tutto. Jenny è finita sotto i riflettori anche per alcune foto del passato che mettono in luce i suoi interventi di chirurgia estetica. Le immagini del 2017 pubblicate su Facebook mostrano una Jenny molto diversa da quella di oggi. Gli esperti sostengono che la ragazza abbia fatto filler alle labbra, al naso e ritocchi agli zigomi, rendendo il suo aspetto visibilmente artificiale. Prima dei ritocchi, Jenny era già una bellissima ragazza, ma sembra che abbia deciso di cambiare il suo aspetto per motivi personali. La partecipazione di Jenny e Tony a Temptation Island ha portato alla luce non solo i problemi nella loro relazione, ma anche le trasformazioni fisiche della ragazza nel corso degli anni. La differenza tra il prima e il dopo la chirurgia è evidente, suscitando curiosità e commenti da parte del pubblico. Mentre la coppia si confronta con le tentazioni e tradimenti nel programma televisivo, Jenny si trova ad affrontare anche il giudizio del pubblico riguardo ai suoi interventi estetici. Resta da vedere come evolverà la loro storia e se riusciranno a superare le tue. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!